Non è uno scudetto di carta, ma è lo scudetto della città della carta, Fabriano sempre più capitale della ginnastica ritmica, non solo per essere stata selezionata come polo tecnico federale, ma ancora di più col tricolore conquistato domenica a Padova dalla fondazione Carifac Ginnastica di Fabriano. Una vittoria storica, perché la prima in assoluto, ma anche perché conquistata da neopromossa. Già, le farfalle l'anno scorso erano in A2 e oggi sono campionesse d'Italia. Tutte giovani, con età compresa tra i 13 e i 16 anni. Soprattutto, tutte italiane. Milena Baldassarri, Talisa Torretti, Sofia Raffaeli, Serena Ottaviani, Melanie Muscella e Alicia Iello. L'ultima prova del campionato al Palacchione con un brillante primo posto con punti 99.000, mettendo in fila dietro di loro Armonia Chieti, Motto, Viareggio e Laudinese addirittura quinta. La ginnastica di Fabriano ha stracciato tutte le concorrenti, staccandole ancora di più nella classifica finale. Fabriano, campione d'Italia, con 94 punti, davanti a Chieti e Udine a pari merito 85. La responsabilità era tanta, essendo la più grande della squadra, quindi dovevo incoraggiare le piccoline ed è stato molto emozionante, difficile in parte, però tutto bello. Punteggi guadagnati con i primi posti ottenuti nelle tappe di Fabriano e Padova e due secondi posti a Desio e Prato, derivati dall'ottima strategia delle allenatrici Cristina Ghiurova e Iuleta Cantalupi. Le emozioni sono sempre belle, sono sempre tante e spero che non finiscano mai. Se è in veste da ginnasta o da allenatrice è comunque bello, perché facciamo parte di una cosa molto bella e molto, come si dice, emozionante e quindi sono tante. Ora, sguardo rivolto questo fine settimana alla finale nazionale del campionato di Serie C e sarà organizzato al Pala Guerrieri da venerdì a domenica, che tradotto in cifre significa 600 ginnaste provenienti da tutta Italia che ormai da giorni hanno fatto già registrare il tutto esaurito negli hotel della città.